Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale In Cucina con Graziella. Oggi vi ripropongo un piatto antichissimo, lo spezzatino di vitello con i peselli e il battuto d'uova. Allora, questo piatto si preparava nei tempi indietro quando i matrimoni si svolgevano in casa, quindi i ristoranti ancora non ci si andava, ed era la persona più brava magari della contrada, una signora, un uomo, e andava a preparare questi piatti. Questo era un piatto apprezzatissimo e veniva preparato come antipasto, quindi l'entré degli altri piatti. Andiamo quindi, andiamo subito all'esecuzione. Guardate che bei pezzettini di carne, io ho fatto più piccolini così cuoceranno in minor tempo. Vi ricordo che la cottura è lenta e prolungata, quindi partiamo da un minimo di un'ora di cottura, perché i pezzetti di carne devono praticamente sciogliersi come burro in bocca. Ho fatto quindi olio extravergine di oliva, un battuto di cipolla e carota, facciamo soffriggere. Aggiungiamo i nostri pezzetti. Allora, con questa carne all'incirca un chilo e cento, ho calcolato 100 grammi a persona, 100-150 grammi a persona. Facciamo soffriggere un pochino la carne. Copriamo. Dopo aver soffritto la carne, aggiungo un bel bicchiere di vino bianco e lascio sfumare. Alzo un po' la fiamma, quindi medio alta, e lasciamo evaporare l'alcol che abbiamo messo. Ho evaporato l'alcol, aggiungo il sale, brodo vegetale o semplicemente acqua. Copriamo la carne, così da lasciarla cuocere, abbassando il fornellino a minimo, quindi temperatura bassa. Abbassiamo, copriamo e lasciamo cuocere un'oretta. Vi dico, temperatura tempistica minima di un'oretta, poi controlliamo la carne con i rebbi di una forchetta, semplicemente. Dovrà spappolarsi praticamente, sciogliersi in buca, ok? Ho aggiunto ora, i piselli sono surgelati. Dovranno cuocere una ventina di minuti. E poi l'ultimo step, cioè l'aggiunta delle uova battute e formaggio, formaggio grattugiato. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. Dopo 20 minuti quindi di cottura dei piselli, aggiungo tre uova battute. Giro, mescolo per bene. Un altro po' di sale. Lasciamo cuocere qualche minuto e a fine cottura, quindi, aggiungo il formaggio grattugiato. Il piatto è bello che pronto. Provatelo perché è buonissimo, è una ricetta antica. Allora, come tempi di cottura, sì, è vero, sono un pochettino lunghi. Un paio d'ore di cottura ci vogliono perché è un piatto che deve cuocere lentamente e la carne deve essere molto tenera, quindi. Però vale la pena provarlo di tanto in tanto perché è un piatto della nostra tradizione, quindi della mia infanzia. Bene ragazzi, io vi saluto, sono felicissima di aver fatto questa videoricetta e vi aspetto al prossimo video. Solida raccomandazione, iscrivetevi, attivate le notifiche e tutti i prodotti sono in descrizione. Ciao ciao! Ciao! Ciao!